Riprese le vaccinazioni per il personale dell'Ateneo Patavino dopo l'interruzione dovuta alla bufera AstraZeneca. 750 vaccinati al giorno per due giorni, personale tecnico amministrativo. E poi con l'Ateneo la campagna vaccinazione si può dire finita. Chiaro che c'è un maggior tasso di rifiuti, di ritiri diciamo così, rispetto a quello che avevamo registrato nella scorsa settimana. Attualmente stiamo sul 15%. Quando ci siamo dato lo stop avevamo vaccinato 5.600 persone dell'Ateneo. Poi dopo noi abbiamo vaccinato anche altre categorie di persone e altre categorie le vaccineremo a seguire. E ne restano 1.500 che dobbiamo vaccinare fra oggi e domani. Ad aderire alla campagna vaccinale sono stati il 93% dei professori ordinari, l'88% di quelli associati, l'83% dei ricercatori, l'80% fra il personale tecnico amministrativo. Come formatori consapevoli e assolutamente decisi sul fatto che la formazione è presenza, incontro, sono persone che si devono incontrare e interagire tra loro per essere pienamente efficaci. Noi compatibilmente con le necessità di sicurezza lavoriamo per riavere l'università in presenza. Ritmi di 900 vaccinati al giorno per la Croce Rossa. Questa è la parte amministrativa del nucleo vaccinale. Il personale inserisce i dati delle persone vaccinate, i terminali sono connessi alla rete dell'azienda sanitaria locale e le persone se ne vanno con il certificato vaccinale in tasca.